Ti è piaciuto lo spettacolo? Eh, moltissimo. Sono stati bravissimi, un ritmo eccezionale e credo che sia qualcosa di bello anche per chi non ha mai assistito a una cosa del genere. La trovata della sceneggiata napoletana, quando la regina Rana otterriva, scusate, incazzatissima, è straordinaria. Non mi aspettavo, mi ha emozionato, proprio veramente sobrava. Sì, a me piace, mi piace questo... Già la conoscevi l'orchestra? No, prima no, è la prima volta che io l'ho visto qua. È la prima volta che vieni anche al teatro? Sì, è la prima volta anche venuto qua. E che complimenti, grazie. È piaciuto il gambe? Sì, mi piace, sì. Bello, bello. Sì, sì, mi piace così, sì. È un viaggio nella fantasia, quindi mille più note oserei dire, perché è un linguaggio universale. I disegni dei bambini che richiamavano la fantasia, cioè qualcuno che ha avuto un pochettino da ridire, io dico solamente questo, ma perché quando vai a sentire un concerto di un gruppo inglese capisci le parole dell'inglese? E allora, fai viaggiare alla fantasia. Bellissimo, favoloso. È stato globalizzato, la musica non è una barriera, la lingua sì, però la musica è stata bellissima, ci ha creato emozioni bellissime. Complimenti al Teatro Gesualdi e al Presidente. Sì, mi è piaciuta. La mescolanza briosa, simpatica, allegra. Sì, sì. La multietnicità, l'unione di razze insieme hanno sviluppato l'arte, l'arte. Per me questa è arte. Non commenta. Non commenta. Devi pure forse capire perché era una cosa... Perché le lingue non... Era in tutte le lingue. In tutte le lingue, molto mix, molto mix. Un'orchestra di spessore, di altissimo profilo e poi artisti di livello internazionale, chapeau.